Musica Manca Rizzuto alla seconda consecutiva interna del cittadino Belpasso e Mimmo Ferruccio affide il delicato compito di centrale difensivo a Gabriele Di Sano, professione centrocampista. Mediana del campo, sempre più tinta di gioventù, ma le novità riguardano la panchina con l'arrivo dell'esperto difensore Fabio Lingua Glossa e il parziale rientro di Kevin Puglisi, sempre per il reparto arretrato. E' il periodo del ciclo di ferro per i belpassesi che affrontano tutte le big del girone G. Oggi a tre mestieri tocca al Vizzini, che parte subito con le idee chiare. Dopo cinque minuti una manovra a sinistra conduce a un assist. Per Dorata, appena fuori l'area di rigore, l'accompagna col destro, la scarica con lo giusto dosaggio, tanto da inventare. Questo pallonetto tra palo e portiere Reardon, dunque avanti il granata del calatino Vizzini in vantaggio con Dorata per il città, subito operazione rincorsa da compiere. Capitan Placido Giumaresi si propone come trascinatore, affonda da sinistra, palla in mezzo per Di Venuto che è ancora in rodaggio sotto porta. Al ventesimo, Di Sano in profondità, Fazio non impeccabile tra gli ospiti, Giumaresi ne approfitta per aprire un corridoio dalle parti di Di Venuto. Scatto rapidissimo che buca, un solo per il gol del pareggio. Giovanni Di Venuto ha placato la sua voglia di tornare al gol col Pozzallo la settimana scorsa. Si ripete adesso quarto centro stagionale per lui e grande intesa a quei compagni di reparto che si va sempre più affinando. Alla mezz'ora, città in avanti, crede nel sorpasso Ravalli per Giumaresi che di testa spedisce fuori. Allo scadere, a marcare visita in tre quarti, Vizzini ci pensa Di Venuto che su lancio di Reardon si incolla la palla tra i piedi per 30 metri e cerca la soluzione da fuori andando a sfiorare. Il 7. Finisce 1 a 1 il primo tempo, ripresa a 10 secondi dal rientro in campo, un gol record ed è un gol da manuale del calcio per rapidità di manovra intesa. Tra Consoli, Ravalli, Giumaresi e il Terminale di Venuto che parte in posizione assolutamente regolare va a griffare il sorpasso CDB in modalità fulminea. 2 a 1 è domenica sera che si preannuncia di gioia ma manca ancora un tempo intero prima di cantare vittoria. Intanto, riproposizione del gol di Giovanni Di Venuto che tocca quota 5 centri personali in stagione. Mentre Ferruccio cambia qualcosa in mezzo al campo con Blangiforti per Bella Vista, il Vizzini pur non appariscente lì davanti dove il solo Dorata cerca di ripetere la prudezza di inizio match ma con scarsi risultati. Analogo discorso per Elochukwu con Jeremy Reardon attentissimo tra i paretnei. Vizzini si dimostra spietato quanto basta per stravolgere i piani avversari ma anche con la complicità dell'arbitro Motta di Aciriale che per questo contrasto, se vogliamo usare questo termine tra Chisari e Dorata, manda dagli 11 metri gli ospiti. E un pacco dono recapitato con largo anticipo al Vizzini, ancora più colorito di quello della settimana precedente accordato al Pozzallo. Alla città di Belpasso non resta che protestare per l'occasione e per di più. Ci sarebbe pure un giallo per simulazione al numero 11 Granata. Al ventesimo, Cordova va dal dischetto e fa 2 a 2. I gialli locali si rigettano all'offensiva con estrema generosità ma hanno il torto di farsi prendere. Dalla precipitazione vedi Chisari che su ribattuta telefona al portiere avversario. Dietro l'angolo le sgredite sorprese che non mancano mai. Al ventottesimo un cross senza opposizioni, svincola, Dorata che completamente solo firma il controsorpasso a 2x2. Con Reardon, Vizzini in vantaggio per 3 a 2. Qui il gol è regolare. In questo caso, ha visto bene, motta su una valutazione abbastanza complicata. Sono invece i belpassesi a dover recitare il mea culpa per l'unica distrazione fatale degli interi 90 minuti. Si accende la spia della riserva lì davanti. Col passare dei minuti le idee si annebbiano. Il Vizzini sfiora due volte con Barbuzza il gol della sicurezza per il CDB. Non si va oltre questi tiri col destro di Ravalli. Anche lui coinvolto nella voglia di gol a tutti i costi che non riesce quando la fretta è cattiva consigliera. Seconda sconfitta in campionato. Questa più che mai beffa nel città di Belpasso. Il Vizzini mette la freccia, sorpassa e si colloca al terzo posto. Domenica l'esame gela. Supercapolista solitaria prima della chiusura del girone d'andata per i ragazzi di Ferruccio. Ciao!